Buongiorno E dico purtroppo non c'è stato possibile portare con noi alcun tipo di device Esatto, di nessun tipo di movimento tecnologico Perché era, diciamo, un ambiente un po' privato Quindi... Quindi ma se tanto non siamo riusciti a fare un video se non questo che poi è tutto nero Tutto nero Hai paura dell'uomo? Negro, 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 negro Comunque ragazzi stiamo riascoltando i cd dal 2005 al forse ad oggi E più andiamo indietro e più escono cose esilaranti Cioè ad esempio questa, ma me la ricordavate voi CrazyFrog ragazzi? E quanto l'avete cantato e quanto siete impazziti per CrazyFrog La camisa negra, il tema, il tema del nero Uh, ciao! Spiragli in noi Tengo la camisa negra Tengo la camisa negra Andiamo andiamo Besogli in noi E pogni degli sottotitoli discipline Heyo Peraldo Lì What do you do? :「 Ngay swa Svambè 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 Ma la notte è grossa D'azvolvere il giorno solo E un giorno solo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, qui c'è tanta gente, non so dove dovremmo andare noi, tipo dritti di là, zio. No, dritti di là. Proprio di là. Bene ragazzi, aspetta, io ve lo farei anche vedere quanta gente c'è qui. Ecco, guardate la piazza. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, buonasera a tutti quanti. Sì, ovviamente, a parte da un cool in diretta per voi. Ciao ragazzi, ciao, vedi, piazza, piazza. Grazie. Ciao. Grazie a me, ragazzi. Grazie che ci fate passare. Guardate da un cool come la pia. Dimmi dove sta la tua macchina, someday. Someday, all'ell'ingiù. Ecco, qui a destra, che io mi confondo ancora a left, right, sinistra, destra, è un difetto neuronale. Qua. I miei dendriti, sì, dendriti o come si chiamano loro, certe volte non vogliono parlare tra di loro, quindi le mie sinapsi ogni tanto saltellano. Mi segui, no? Eccola. Sì, ti seguo. Ragazzi. Seguimi. Ci va più tardi. Quattro di un cool.